Non è facile costruire un matrimonio, costruire una relazione. All'inizio sembra tutto facile, no? C'è l'amore, c'è l'entusiasmo. E sicuramente quello ce l'avevamo anche noi. Avevamo questa casa che io ho rimesso a posto esattamente come volevo io. Ma questa casa? Perché questa? Allora, giù, la mia casa, non questa, la mia casa. C'era la mia casa, forse di proprio che... Ma c'è la mia casa. E io li ho portato sicuramente ai massimi, ai massimi, ai massimi, ai massimi... E non sapevo che non sia portavo, però... E non si può fare, ma 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 non si può fare. E non si può fare, ma 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.